Buonasera telespedatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buonasera anche a chi si segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv Telegiornale della sera, capriamo parlando di cronaca perché 5 persone sono rimaste ferite questa mattina, poco dopo le 11, in un ascensore di un garage in Viale Masini, a pochi passi dalla stazione. L'ascensore si è improvvisamente guastato, stiamo vedendo le immagini di quello che è successo dell'arrivo dei soccorritori, dicevo restando bloccato tra due piani. Gli occupanti hanno subito chiesto aiuto e i vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti, ma proprio mentre stavano operando qualcosa è andato storto. La cabina è precipitata per almeno un metro e mezzo nel vuoto, andando a sbattere contro la parete del vano. Il contracolpo ha causato i problemi maggiori agli occupanti, per recuperarli però è stato necessario l'intervento del nucleo SAF che è riuscita prima a calare nell'ascensore un medico, poi a recuperare tutti quanti le persone che erano rimaste chiuse all'interno grazie a un complicato sistema di corde e verricelli. I feriti sono stati poi portati negli ospedali Maggiore e Sant'Orsola, una donna si è fratturata una gamba. L'ascensore è stato dichiarato ovviamente inutilizzabile sul posto, sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro dell'ASL. Cambiamo argomento perché si è tenuto questa mattina nella cornice del Teatro d'Use il terzo congresso dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativi. Punto caldo del programma è stata la giustizia amministrativa. Ospite tra gli altri il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, di il quale ascoltiamo le parole al microfono di Mario Giuliani. Noi oggi abbiamo una giustizia lontana anni luce dalla vita del cittadino. Il cittadino quando va da un avvocato chiede se ha un diritto da poter rivendicare, l'avvocato gli dice sì, poi chiede all'avvocato quanto costa e quanto dura il processo per rivendicare quel diritto e quando l'avvocato gli risponde il cittadino si alza e dice vabbè rinuncio. Non ha senso concentrarsi su quante cause ci sono, perché se c'è un minor numero di cause, perché i cittadini rinunciano a rivolgersi alla giustizia, siamo alla morte dello Stato di diritto. Quindi da parte mia e per quanto riguarda la giustizia amministrativa, da parte del Presidente del Consiglio Conte, c'è tutto l'impegno per riavvicinare la giustizia nella procedura ma anche nel diritto sostanziale ai cittadini. Quali sono i punti da toccare per quanto riguarda il mondo degli avvocati invece proprio sulla riforma? Bisogna un po' semplificare? Bisogna semplificare perché la semplificazione del lavoro degli avvocati passa attraverso la semplificazione del diritto sostanziale che gli avvocati affrontano quotidianamente. Quindi ci saranno interventi mirati per semplificare il codice degli appalti. Ricordiamo che quando è entrato in vigore nella scorsa legislatura è stato un dramma per la giustizia amministrativa e per gli avvocati. Praticamente gli appalti sotto un milione di euro sono rimasti bloccati praticamente per un anno perché le pubbliche amministrazioni non sapevano più come muoversi e questo chiaramente complica la vita dell'avvocato. Investiremo ancora in termini di digitalizzazione e dobbiamo cominciare chiaramente a riflettere sui costi di accesso alla giustizia. Ma la semplificazione è il primo e fondamentale passo per una giustizia più vicina, sì come dicevo prima, ai cittadini e quindi agli addetti ai lavori. La nuova legge sulla legittima difesa lascia dietro di sé ancora alcuni dubbi. Andiamo a sentire ancora le parole del ministro della giustizia sempre al microfono di Mario Giulianti. La legittima difesa era nel contratto di governo, è stato e quindi è andato in Parlamento perché noi rispettiamo gli impegni che abbiamo preso. Sapete benissimo che c'erano perché ora si sta dicendo chi ha vinto, ha vinto la Lega, ha vinto il 5 Stelle. Questa è la partita che tutti amano proporre ogni volta e in realtà non vince una forza politica rispetto all'altra. C'è un confronto, sapete che c'erano 9 testi iniziali e quindi è normale che da quei 9 testi dopo le audizioni si sia fatta una sintesi. È un'ottima sintesi che crea un punto di equilibrio che permette al cittadino che si difende in casa propria perché ha subito non solo una violazione ma che probabilmente rischia di subire un'aggressione, semplicemente di difendersi e a quel punto non dover attraversare un calvario giudiziario per dimostrare che era semplicemente a casa sua e che si stava semplicemente difendendo rispetto a per esempio un ladro che doveva essere tenuto fuori dalla porta, non solo da quel cittadino che giustamente aveva chiuso la porta di casa sua ma anche dallo Stato perché ricordiamoci che ogni volta che un ladro entra in casa di un cittadino italiano il primo fallimento in quel momento è dello Stato. Ogni volta che un cittadino è costretto a difendersi da solo il primo e più grande fallimento è quello dello Stato italiano che non l'ha saputo proteggere. Però partendo da questa consapevolezza nel momento in cui il cittadino si difende che gli sia data la possibilità di dire mi sono difeso senza dover entrare in un vortice di cavigli che aggiunge oltre al danno veramente una beffa che però diventa una tragedia perché vi lascio immaginare uno che si è difeso che deve passare tre gradi di giudizio per dimostrare la propria innocenza. La giustizia amministrativa deve porsi il problema dei cittadini, gli utenti necessitano di un'assistenza tecnica adeguata. In merito a questo abbiamo intervistato Beatrice Belli, membro del Consiglio Avvocati di Bologna che dà il punto di vista sugli avvocati. È un evento in corso molto importante perché per la giustizia amministrativa si stanno cercando di porre basi nuove per rinnovare il processo amministrativo e comunque tutto il mondo della giustizia amministrativa. L'intervento del ministro, sebbene ministro della giustizia e quindi non strettamente legato alla giustizia amministrativa in quanto la giustizia amministrativa è legata alla presidenza del Consiglio dei Ministri è stata importante come segno perché dà lo spessore e l'importanza della partecipazione dell'avvocatura come parte essenziale nella costruzione della giustizia in tutte le sue forme, quella amministrativa, quella che siamo oggi qui a studiare, a rinnovare e a incarnare e la giustizia è ordinaria. Santa, il ministro ha sottolineato diversi punti, quello forse più importante è avvicinare o comunque riavvicinare il cittadino alla giustizia amministrativa, alla tematica comunque del processo amministrativo. Lei dal lato dell'avvocato condivide questi punti e quali sono magari eventuali problemi che possono esserci? Io lo condivido tantissimo proprio perché purtroppo in tutti i settori della giustizia ripeto, ordinaria, civile, penale e amministrativa il cittadino adesso si sente tradito. L'avvicinare, capire che chiedere giustizia è un diritto, non deve essere un evento faticoso, non deve essere un evento solo riservato a pochi. Uno dei veri problemi è il costo della giustizia. I cittadini molto spesso nella giustizia amministrativa non aderiscono, non agiscono perché è oneroso, è oneroso il famoso contributo unificato. Il passante di Bologna è uno dei tanti dossier che ho ereditato e lo stiamo analizzando. Avremmo già voluto toglierlo ma purtroppo le informazioni ce le ha autostrade e avrebbe dovuto darcele a metà settembre. Sono queste le parole del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli a margine della sua visita al Saie di Bologna che non scioglie le riserve sul futuro dell'allargamento della tangenziale del capoluogo emiliano-romagnolo, opera su cui è in atto da mesi un braccio di ferro tra istituzioni locali e governo. Martedì continua Toninelli, ci sarà una riunione con i miei uffici tecnici e daranno tutte queste informazioni che ci permetteranno di trovare una soluzione. Ha spiegato Toninelli poi che il 24 ottobre verrà il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ancora Toninelli dice che l'obiettivo è sempre lo stesso, evitare di sprecare tanti soldi pubblici e migliorare la qualità del servizio dei trasporti senza sprecare denaro pubblico ma dando soluzioni migliori e non così impattanti a livello ambientale. Cambiamo adesso argomento, parliamo di un importante progetto di collaborazione e di cooperazione internazionale tra il comune di Bologna e il Madagascar che ha portato alla creazione di un ospedale nel villaggio di Ampasilava, in Madagascar appunto. Sentiamo la soddisfazione da parte dell'assessore alla cooperazione internazionale del comune di Bologna, Marco Lombardo. Un progetto nato qui a Bologna 16-17 anni fa che quindi sta per diventare maggiorenne e che ci vede orgogliosi perché intanto coinvolge un gran numero di volontari, sono circa 6-700 i volontari a titolo diverso tra cui infermieri e persone sanitarie che si occupano di questo progetto che riguarda un ospedale in Madagascar e siamo molto contenti perché è anche l'immagine della nostra città in tema di cooperazione internazionale che va nel mondo per progetti utili e che danno l'idea anche della solidarietà della nostra comunità. Ai nostri microfoni ha parlato anche Madame Gilbert, direttore dell'agenzia della rete ospedaliera presso il Ministero della Salute del Madagascar. L'importanza del progetto è soprattutto nel posto in cui si trova perché è una zona dove ci sono soltanto dei pescatori, non c'è del riso, le precipitazioni sono scarse durante l'anno e quindi la popolazione è davvero povera. La cosa importante è che è gratuito e quindi è accessibile a tutti quanti. Dieci anni fa immaginavate potesse diventare così importante, così grande? Già quando è stato costruito dieci anni fa era molto grande con tantissime tecnologie già allora e quindi non si aspettava, cioè era già partiva molto bene e adesso addirittura si è arrivati alla costruzione e all'ampliamento dell'ospedale, ma parlava dell'epidemiologia con quindi molte parassitosi e l'associazione per lei è molto importante che abbia fatto anche un acquedotto, non soltanto la parte ospedaliera ma proprio anche sulla popolazione. L'Italia dopo tutto il villaggio. Torniamo alla cronaca perché dal 2013 al 2016 ha sottratto facendosi aiutare dai suoceri 185 mila euro dal conto corrente di una signora anziana che nel frattempo era deceduta. I carabinieri della stazione Bologna San Ruffillo però hanno ricostruito tutto dopo la denuncia da parte della nipote dell'anziana e ora hanno eseguito nei confronti dei tre un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, un consulente finanziario quarantenne di unicredit, è finito in carcere mentre i suoceri sono agli arresti domiciliari. I tre rispondono in concorso di circonvenzione di incapace, frode informatica, falsità in titoli di credito, ricettazione e anche furto aggravato. Nei dettagli il consulente che doveva curare gli interessi della signora di 82 anni, morta nel 2016, emetteva segni intestati a se stesso, firmando quindi per ritirarli e poi li versava sui conti dei suoceri, da cui il denaro veniva prelevato in contanti e incassato su un altro conto definito pulito. Torniamo a parlare invece di un altro argomento, torniamo a parlare di sanità perché un anno fa nasceva lo sportello informativo di collaborazione tra azienda ASLE e comitato paralimpico della regione Emilia Romagna per permettere alle persone con disabilità di praticare attività sportiva. Andiamo a sentire le parole di Roberto Piperno, il direttore della medicina riabilitativa di ASLE e Bologna. Abbiamo fatto sperimentalmente un primo percorso a Bologna, il primo in Italia, possiamo dire quindi anche con un tono, un elemento anche di orgoglio rispetto a questa esperienza pilota di collaborazione fra l'azienda USLE e il comitato paralimpico nel costruire una rete di sportelli di aiuto, di facilitazione per l'avvicinamento allo sport rivolto alla popolazione, non soltanto alla popolazione che esce da un percorso riabilitativo in un ospedale ma anche alla popolazione che vive già a domicilio, che vive a casa e quindi aiutare tutti quelli che possono uscire dall'isolamento, uscire dalle proprie case per avvicinarsi alle pratiche sportive. Il comitato paralimpico garantisce la presenza di personale qualificato anche in questi sportelli che collabora insieme ai professionisti della salute, fisioterapisti, educatori dell'azienda USLE, insieme faranno un progetto di avvicinamento allo sport, aiuteranno le prime esperienze di accompagnamento alla pratica sportiva anche per chi non l'avesse mai fatto nella sua vita e anche per chi non è solo un ragazzo ma anche un adulto, un cinquantenne, perché no, perché escludere un'età anche più alta di quelle che normalmente si pensano impegnate nella pratica sportiva fino a trovare quella dimensione dello sport che può essere la migliore per lui e la più appagante, la più gratificante per lui. Puoi stare a lui a fare le sue scelte, se proseguirlo in maniera agonistica o solo amatoriale, insomma farà quello che ritiene con l'aiuto del comitato paralimpico che lo assisterà in questo percorso. Quindi possiamo dire che lo sport è una riabilitazione sia psicologica che fisica? Assolutamente sì, su tutte le dimensioni sia dello star bene psicologicamente, dello star bene insieme agli altri, dello riscoprire il piacere della relazione con gli altri e del far bene ai propri muscoli, alle proprie articolazioni e al proprio cervello che rimpara movimenti normali o sviluppa movimenti migliori di quelli che poteva avere. Andiamo a sentire anche le parole di Melissa Milani, la Presidente del Comitato Paralimpico della Regione Emilia Romagna, visibilmente soddisfatta del traguardo all'Aggiunto. Questo intanto è un progetto unico a livello nazionale, quindi siamo particolarmente orgogliosi della sensibilità che l'ASL ha dimostrato nei nostri confronti e anche ha creduto in quello che noi riteniamo essere uno strumento fondamentale per il benessere dei nostri atleti e dei nostri utenti. Quindi poter realizzare qui a Bologna, la mia città, nella nostra regione, un progetto così ambizioso è sicuramente importantissimo. Noi sappiamo che circa il 5% di cittadini hanno disabilità, quindi un'utenza numericamente molto importante. Il progetto ha l'obiettivo di andare a incontrare le persone nell'ambiente che è più protetto, che è l'ambiente sanitario. La realizzazione dello sportello all'interno della Casa della Salute è proprio questo, un cercare di metterci al servizio dell'utenza e di avvicinare il maggior numero di persone al movimento. Il nostro obiettivo non è cercare l'atleta paralimpico di alto livello, è quello di dare un servizio e un'opportunità a tutti e in questo, grazie all'ASL, penso che stiamo riuscendo. Parliamo adesso di sport e di calcio. Domani conferenza stampa di Filippo Inzaghi, domenica Bologna scenderà in campo invece nella sfida contro il Torino, torna a giocare la Serie A, alle ore 15 ci sarà appunto Bologna-Torino. Giocheranno sempre domenica invece Virtus e Fortitudo, la Fortitudo nella trasferta di Treviso del Palaverde alle ore 12, la Virtus invece alle 18.30 ad Avellino contro la squadra Campana. Rimanendo a parlare però di calcio, continuiamo a parlare anche del Felsina Calcio, un progetto che nasce lo scorso anno, abbiamo seguito come Nettuno TV, quest'oggi abbiamo incontrato Federico Palazzoli e Simone Serra, i responsabili del settore agonistico Simone Serra e in generale del Felsina Calcio Federico Palazzoli che ci fanno un po' il punto della situazione su questo inizio di stagione e ci raccontano un importante appuntamento per mercoledì prossimo. Numericamente molto bene perché siamo aumentati su tutte le categorie di 7-8 ragazzi per categorie, sportivamente potrebbe andare meglio, non siamo partiti benissimo, soprattutto io parlo delle categorie agonistiche quindi giovanissimi allievi, lì c'è da lavorare ma i gruppi sono fondi quindi speriamo di tirar fuori qualcosa di buono. Più ragazzi, più impegno ma anche più campi sui quali gestirsi. Esattamente questo, noi abbiamo questo, noi lo chiamiamo Felsina Stedio ma è un piccolo campo con la nostra tribunetta però di cui siamo molto orgogliosi, i ragazzi dell'agonistica e anche altre squadre si allenano allo Zoni e anche all'Extore Verde, all'Academy Sport Village. Hai detto tutti in sintetico, è una cosa positiva? Allora, dal punto di vista delle famiglie sicuramente perché meno panni sporchi da lavare d'inverno, dal punto di vista tecnico si può lavorare tutto l'anno senza sosta, quello sì, però visto che il 90% dei campi dove si gioca la domenica non è in sintetico, i ragazzi fanno un po' fatica ad adattarsi alle partite perché il rimbalzo è completamente diverso. Tanto in cantiere come sempre, cosa succederà a breve? Allora, a brevissimo avremo un triangolare che sarà svolto qui al nostro Felsina Stadium mercoledì 24 ottobre, che è la data di nascita di Giacomino Bulgarelli, che nacque nel 1940 e il 24 ottobre. Facciamo un triangolare categoria Pulcini 2008, con Bologna, Felsina Calcio e probabilmente la SPAL siamo in via di conferma, un triangolare amichevole dove sarà più che una partita competitiva, una festa di calcio, i bambini sono piccoli, speriamo di avere tutti gli spalti gremiti di felpe rosse e felpe rosse blu, sarà la famiglia Bulgarelli a premiare, insieme probabilmente a un giocatore del Bologna, quindi grande divertimento, grande festa nel ricordo del grande campione che fu Giacomo Bulgarelli. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia di Filippo Patti, a voi tutti, buon proseguimento di serata. Grazie.